4 su 5, Voltri vince la 59esima edizione del Paglio di San Pietro, c'era già riuscita nel 2010 e ha fatto Tris, 2012, 2013, 2014. Una grande soddisfazione Luca Ponta perché questa, a differenza delle altre edizioni, è stata secondo me la vittoria del non arrendersi mai, del volerci credere sempre, nonostante un forte ritardo in acqua, dobbiamo ammetterlo, siete riusciti poi comunque a vincere questa edizione. Hai proprio ragione, ci siamo concentrati fino all'ultimo senza non arrenderci mai, abbiamo sofferto ma abbiamo portato a termine questa regata, è stato fondamentale il nostro mozzo di arrampicata che come al solito ha dato un'impronta importante a questa gara e come hai detto te è stato il cuore di non mollarci mai fino alla fine, dal terzo giro in avanti abbiamo dato tutto fondo alle nostre forze, come andava andava e è andata bene. Mario Venzano, per te la vittoria numero? Sei. Numero sei ottenuta con rioni diversi, lo ricordiamo quali? Sì, questa qua è la terza, se non sbaglio, con la canottiera i voltri e hai detto bene, ha detto bene lui, la terza forse più sofferta perché l'anno scorso effettivamente abbiamo dimostrato in acqua di meritarci questa vittoria, quest'anno col mozzo da arrampicata è stato un pochino diverso, però si sa, la gara è un po' come le preti di pallone, finiscono al novantesimo minuto e anche qui grazie all'apporto fondamentale di Roberto siamo riusciti, nonostante con un po' di ritardo, a tagliare il traguardo per primi. È una bella soddisfazione anche perché per alcuni di noi potrebbe anche essere forse l'ultimo pallio e quindi riuscire a chiudere in bellezza era importante, a me soprattutto, almeno io ci tengo tantissimo, ci tenevo tantissimo, quindi è una bella vittoria per tutti veramente. Non sarà sicuramente l'ultimo pallio per Luca Raffo che a 41 anni ha centrato la sua vittoria numero uno? È la mia prima partecipazione, fortunata, non ci credevo in realtà perché veramente è stata una gara che i primi due bordi stavamo combattendo ma eravamo dietro, però poi con grande carattere, grande grinta eravamo d'accordo che il terzo bordo dovevamo partire, dare tutto e infatti ce l'abbiamo fatta. I ragazzi hanno veramente dato tutto e siamo riusciti veramente, è una vittoria di grande squadra, di squadra, molto bella. Che aggettivo per questi ragazzi, Tommaso Ferran? Eccezionali, eccezionali, hanno vinto veramente tutti perché per Voltri, credetemi che è importantissima questa vittoria qua. Abbiamo una base di ragazzi che su questo dobbiamo continuare a tenere duro e una società piccola come la nostra deve come specialisti del gozzo portare avanti il sedile fisso e deve continuare ad avere una società che possa togliersi soddisfazioni non solo sul gozzo ma anche sulle altre imbarcazioni del sedile fisso. I nostri programmi sono quelli assolutamente di andare avanti e credo che in ragazzi così se ne trovano pochi. Abbiamo avuto la sfortuna che Dario quest'anno non ha potuto essere insieme a loro per motivi di lavoro ma abbiamo trovato eccezionale riserva, eccezionale sostituzione che veramente ci ha portato a questa soddisfazione qua. Grazie a tutti voi, grazie. Roberto il protagonista, Roberto Vassallo che è stato straordinario, il guerriero nel riuscire a portare a termine una rimonta impensabile una rimonta che se la memoria non mi inganna portasti a termine già nel 2010, allora fu sfortunata Nervi però se alla fine non c'è un mozzo d'arrampicata capace di arrampicarsi in maniera così veloce ed efficace è insomma molto importante. Sono un po' la pecca di questo sport diciamo per le povere imbarcazioni diciamo dedico questa vittoria alla mia famiglia e a tutte le persone che mi sono state vicino solo le persone che mi sono state vicino e sono molto contento per aver vinto per Voltri e ringrazio anche la barca che ha dato il contributo a questa vittoria come sempre e come tutti gli anni siamo una bella squadra. Grande emozione sicuramente per il mozzo d'arrampicata. Agostino Abignoni tu che dipaglia le spalle nel meno 130.000 potrai sicuramente dirci se te ne ricordi uno analogo con protagonista un tuo equipaggio. Sì effettivamente in passato all'epoca del rione di Prà ci fu qualcosa di simile forse all'epoca fu proprio nervi a fare un errore del genere ci avvantaggiamo noi però in quell'occasione lì arrivamo proprio pari a terra quindi si può dire che ce l'avevamo giocata comunque anche in mare. Ma a parte tutto questo è il palio il palio finisce quando il mozzo d'arrampicata pianta la bandierina sul pennone più alto e purtroppo e per fortuna il bello di questa gara qua è anche questo quindi è una gara non solo remiera ma anche di destrezza e certe volte chi ha più destrezza vince. Che messaggio mandi al tuo amico, compagno di barca in passato e adesso allenatore rivale Roberto Moscatelli che si è messo in discussione come atleta e oggi sicuramente soffre per questa mancata vittoria? No, sono molto vicino sicuramente i ragazzi di Sturla hanno fatto una grande gara bisogna dire, bisogna essere sinceri, sono stati molto forti probabilmente sul campo avrebbero vinto loro cioè se fosse stata la vittoria diciamo sulle bandierine mi dispiace perché comunque sia perdere una gara per un errore così fa male, lo so benissimo ne siamo diciamo reduci due settimane fa o tre settimane fa col Galeone di un errore purtroppo che c'è stato fatale in regata e sono quelle cose che fanno male però bisogna guardare avanti bisogna non farsi una ragione, continuare a pensare di lavorare comunque per sempre per migliorarsi e per questo sport comunque è sempre fantastico E tra i giovani sozzerittori c'è anche tuo figlio? Mio figlio qua, il calciatore lui è il calciatore è un po' la mia spada però chissà magari un giorno deciderà di impugnare un remo anche lui dai vediamo Dallo sguardo non pare molto convinto Comunque andiamo avanti con Luca Altomani anche a te chiedo una dedica per questo pali Una dedica? Silvia mi vuoi sposare? Fantastico Questa Questo è bellissimo una proposta di matrimonio in diretta Quattro in cinque anni sono l'ultimo residuo del 2010 e in sei anni abbiamo cambiato sei volte equipaggio e una dedica a mia fidanzata di sicuro e ai miei compagni perché abbiamo vissuto insieme al Galeone al mio mister abbiamo passato sei mesi di inferno a distruggerci siamo stati sfigati sia sulla gara del Galeone che su quella del Gozzo ma anche un momento di gioia ci serviva un ricordo e devo comprarle l'anello un pensiero forte ai miei amici posso dire ai miei amici dell'Urania a Filippo, a Lollo e a Ivan che meritavano meritavano ho avuto modo di conoscere in questi sei mesi e devo dire che oltre che ad essere dei canottieri fortissimi sono per me degli amici e gli auguro tutto il meglio per il futuro La chiusura la lasciamo al timoniere Nicolo Ferruggia al quale chiediamo un aggettivo per questa squadra che ha incontrato, conosciuto e apprezzato è una squadra fantastica all'inizio non li conoscevo ma col tempo si sono rivelati degli amici dei fratelli maggiori anche vista la differenza di età potete battere fare qualcosa per noi? La medaglia, la medaglia La medaglia La medaglia Che gli stai raffanando in mezzo Perfetto Perfetto Perfetto